Ma se molto sei stato proprietario di un locale storico, il Charleston di Como, quanti artisti hai visto passare lì e che... Tantissimi. Lucio Dalla era un artista tutto tondo, quando veniva suonava il clarino e il pianoforte. Alberto Fortis anche lui è talmente schivo che è presente sempre ma non si è mai esibito. E adesso cosa ti aspetti da questa esperienza The Voice? Spero di continuare a divertirmi e magari a divertire qualcuno. Questo mi sembra lo spirito giusto per salire sul palco, andiamo a divertirci. Da adesso in poi do solo suggerimenti a Loredana, tendo io che ti ho niente. Io ne devo beccare due forti. Vabbè. Loredana... Che vuoi? Niente, ti vuole... Non mi parlare. Niente, ti vuole... Niente, ti vuole... Niente, ti vuole... Con останalare. Se non qui vuole... Niente, ti vuole.. Non è tutta la sua, non siéri la garmentse. Niente, ti vuole... Niente, ti vuole... Niente, ti vuole... Niente, ti vuole... In me. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È piaciuto molto. Come ti chiami? Massimo Vita. Quanti anni hai? 68. È importante. Te li porti benissimo. Hai una voce incredibile. Grazie. Da questa postazione e ascoltando, quanti ne abbiamo ascoltati in questi giorni, mi chiedo ma perché tanti di loro non hanno avuto successo che avrebbero meritato? Esatto. Perché noi siamo impressionati da come cantano le pare. Sono incantata da te. Grazie. Sono incantata. Volevo spiegare a Massimo che io e Carrisi siamo già girati perché abbiamo completato il nostro team. Altrimenti qui avresti fatto poker sicuramente. Grazie. Massimo, solo volevo chiederti una cosa. Come mai hai scelto di cantare questo brano stasera? Perché lui è così. È Joe Walker dentro. Mi sembrava di rompere qualche schema forse. Infatti gli schemi li hai rotti, insomma. Poi ti volevo fare i complimenti. Comunque se devi rompere gli schemi, guarda, quella che proprio fa per te sono io. Ah, perché come rompe gli schemi Loredana non è mai rompere gli schemi. Quella che rompe proprio, ma è tutto, oltre che gli schemi. Con me faremo grandi cose. Clementino, io ti stimo un sacco. Ma, ma... Vai Loredana! No! Voglio bene! Bravo, hai fatto la scelta giusta. Bravo, Massimo. Non ti pentirai e io spero che sarà l'altezza della tua bravura, del tuo talento. Grazie, grazie. Grazie a voi. Bravo, Massimo. Buon capito. Grazie a voi. Bravo. Ciao.